Ciao a tutti, ci rivediamo Bene, dopo 4 mesi di assenza ci vediamo Questo è un video breve per amiciarvi tante novità Niente, lui è a calcio quindi è impegnato, io sono impegnato con un'altra cosa Con cosa? Con un'altra cosa, quindi sono impegnato Va bene, ma comunque ci sarà un momento per fare video quando lui non deve giocare Quando io non devo fare cose Quando lui deve giocare non devo cos'altro Niente, quindi l'abitudine è passata per questo Niente, ci saranno molti video a breve Fra poco Convinto E va bene Quindi Sempre Lorenzo E lo Spank Jack O Frank Comunque Grazie per Allora, abbiamo fatto due anni su YouTube Strano ma vero Strano ma vero Grazie per gli iscritti Grazie per gli iscritti Saluto Salutiamo Chi vuoi salutare? Chi vuoi ringraziare tu? O chi vuoi salutare? A tutti Chi vuoi salutare? A tutti i miei fan A tutti i miei Sì Sì Niente Io saluto Delle mie persone Che si chiamano Io la saluto La posso salutare? Io salutare Francesca Ok E ringraziamo Sono Sayan E niente Ringraziamo DELINKGM Ringraziamo Salutiamo DELINKGM Il suo canale Mi devo sentire realizzato Si trova qua Il suo canale Qua Quindi Schiacciate qua E andare sul link DELINKGM Ok? Ok Qui Qui Va bene Quindi niente A breve video Quindi ora Vi salutiamo Vi salutiamo E niente Un conto Arrivederci Da noi E da noi Ciao Ciao